Occasione sprecata per il Torino che ieri va a pareggiare 2-2 contro la Cremonese Sprecata perché? Perché vincendo poteva risorpassare la Juventus mentre Adora andrà a affrontare appunto il derby con un punto in meno i bianconeri Una Cremonese che di contro, aggiungendo un punto alla sua classifica, raggiunge a quota 9 e soltanto a meno 2 dalla Sampdoria che Adora ha 11 punti Partiamo però da un'analisi del match Un Torino che in parte è stato condizionato dalle ammunizioni perché ho visto uno Scurs molto compassato, poco deciso ma probabilmente ripeto perché sapeva che pendeva su di lui questa spada di Damocle di questa eventuale ammunizione e comunque gioco forza che con le caratteristiche di Scurs e il ruolo in cui gioca, insomma il cartellino è abbastanza facile quindi è stato veramente tanto compassato ma in generale un Torino che comunque nella prima parte doveva fare di più assolutamente doveva fare di più che nel computo globale della gara comunque si è scontrato con uno dei più grandi porteri italiani secondo me e neanche soltanto in divenire ma attualmente ha un rendimento veramente pazzesco di Carnesecchi infatti al secondo tempo ha fatto un paratore su un colpo di Tessi Sanabria che è stato clamoroso però un Torino che nel primo tempo avrebbe dovuto segnare di più di conto ripeto ha sbagliato un po' di gol ma alla fine comunque ha messo sotto la Cremonese finisce il primo tempo, inizia dal secondo interruttore Daon va su off completamente un'altra squadra in balia della Cremonese poi intelligente il Camerio Ballardini che ha sostituito comunque Metè mettendo dentro Afenagian quindi ha rivitalizzato un po' l'attacco cambiando ovviamente interprete in campo schierandosi un pochino a specchio con questo 3-4-2-1 o 3-4-3 rispetto al Torino ma comunque soprattutto nei primi 30 minuti del secondo tempo il Torino non ha visto palla comunque i giocatori i difensori inculavano molto disattente anche sul ma comunque entrambi i gol da Cremonese sono stati bellissimi sia quello di Saju che quello comunque anche di Valeri soprattutto sul gol di Valeri però c'è stato quel quel piccolo raddoppio adesso non mi ricordo il giocatore su chi ha passato la palla a Valeri ecco c'è stato un piccolo raddoppio lì che ha portato la difesa a stare un po' troppo stretta e quindi nessuno è andato in marcatura o meglio è andato a chiudere la trattoria a Valeri e questo è stato siccome uno degli errori più grandi del Torino nella partita di ieri dopo lo schiaffo del 2-1 è subentrato poi la squadra un pochino si è un pochino rivitalizzata e poi ha trovato questa bella azione bella calma facendo girare palla portato appunto il gol di Singo che tra l'altro secondo me ha avuto anche una conventi di fortuna perché appena ha ricevuto palla ho detto minchia se questo non va di destro se non ti è di prima li chiudono lo specchio della porta in realtà poi invece se è passato sul sinistro per una frazione di secondo il difensore non è arrivato e quindi la palla è andata in rete ma comunque un Torino che mi dispiace di dirlo è stato molto Juventus style cioè nel senso si è svegliato quando ha preso lo schiaffone è stato un po' inaccettabile questo calo di inizio secondo tempo che è stato veramente allucinante c'è proprio una squadra che è andata in switch off e ci ha capito veramente poco comunque un Radonich che non mi è piaciuto assolutamente sempre questa mania di rientrare da sinistra sul destro per tentare il tiro non mi è piaciuto assolutamente come interpreta le gare Radonich onestamente ma dopo tutto neanche Juric è contento di Radonich e io continuo a dire che ragazzi un altro attaccante te lo devi portare in panchina se tu è vero che non consideri Sec o Radonich o chi che sia con un'eventuale prima punta in istituzione di Sanabria o quantomeno a giocare in tandem con Sanabria quindi secondo me questa cosa è veramente assurda ecco io gli ho fatto il nome di Jürgens e nonostante alcuni di voi non siano stati d'accordo lo sottolineo Jürgens ad esempio con Sanabria oggi sarebbe potuto essere utile ma come caratteristiche è comunque un attaccante che ti occupa l'area diverso da Radonich che si perde lì sulla sinistra un altro limite è Voivoda Voivoda con tutto il bene che voglia il ragazzo però o impara a giocare di sinistro o Turin non puoi sempre perdere tempi di gioco che rientri sul destro e tardi l'azione no era uno Palla Voivoda Palla in cassaforte per la Cremonese perché puntualmente entrava sul destro perdeva il tempo di gioco e gli avversari recuperavano di conto una Cremonese che però è stata Gagliarda che ha reagito alla rigore di segnato da Sanabria e qui lo dico Marella ha detto io sono un po' stupito su rigore perché il movimento secondo me no perché se tu vieni avanti il giocatore ti rientra o tu vai dritto o non allarghi il braccio magari sarà una cosa molto istintiva però tu non puoi allargare così il braccio e dare un cioè bloccare così il ilic nella fatti specie quindi qui dissento un pochino con Marelli cioè Marelli ci ha visto una dinamica fluida dell'azione io ho visto io ho visto la malizia onestamente cioè dinamica ok va bene cioè tu corri in avanti però quel braccino se va avanti non puoi tirarlo indietro e aprirlo in quel modo perché così tu blocchi la corsa dell'avversario quindi secondo me è la rigore netto però ecco una Cremonese Gagliarda che ha fatto la sua partita poi il Torino ripeto quando ha messo un pochino di testa ha fatto girare palla in un certo modo e ha fatto il gol di Singò ma comunque anche nei gol di Singò e anche comunque nei gol da Cremonese le difese sono veramente passive tanto passive tanto lente e non hanno non si sono mossi in modo armonico quantomeno quelli del Torino in quel modo da Cremonese semplicemente se non ero bianchetti ci ha messo 20 anni per chiudere lo spazio a Singò quando poi è andato a riblare sul sinistro ma comunque voglio dire un pareggio secondo me è meritato è meritato nel senso che il Torino avrebbe potuto e dovuto dar di più e a Cremonese comunque i due gol si è cercati poi magari Valeri tenta altre 20 volte quel tiro e ne esce mezza e Saju ha fatto un gol un colpo da biliardo magari anche Saju che io non amo come attaccante ci tenta altre 20 volte anche una zecca 2 magari però ripeto un pareggio fondamentalmente meritato il Torino avrebbe dato di più avrebbe dovuto dar di più Juric nel post partita ha detto io sono contento ai ragazzi così a memoria vada sono contento ai ragazzi poi è entrato buongiorno che ha vinto tutti i contrasti però comunque la squadra è questa qui vero molti anche sul gruppo Telegram ho letto che sono andati contro le parole di Juric però io penso che qui Juric cerchi di giocare un pochino di psicologia sa che enfatizzando gli errori dei suoi i giocatori potrebbero un po' demotivarsi quindi è normale che veda un po' più il lato positivo che gli elogi in questo modo magari i giocatori si possono appunto motivare un Illich io l'ho visto anche bene l'ho visto anche bene in campo fisicamente avevo un pochino di prendere ma comunque l'ho visto bene ecco io non ho capito le istruzioni di SEC o meglio non ho capito il fare entrare SEC e Ginetis al 92esimo quando aveva altri due minuti di recupero davanti se tu vuoi istruire Illich e non mi ricordo poi chi è uscito tu lo fai almeno dieci minuti prima quantomeno fai giocare Ginetis SEC dieci minuti non due meglio dieci di cui recupero non ho capito questa situazione onestamente perché se tu dici eh ma Illich era stanco sì ma due minuti non gli cambiavano la vita ecco quindi un conto dieci minuti un quarto d'ora un conto due minuti però ecco non so fatemi sapere appunto cosa ne pensate questa è la mia chiave di lettura quindi un Torino molto specone la mancanza di attaccante si fa sentire ieri comunque Sanabria ha giocato bene devo dire però a volte se tu hai dei tre quartisti che contando che ti mancava anche Vlasic a Bulici tu una seconda punta devi averla da mettere dentro e Radonic no vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti